L'unione urgente del Consiglio Provinciale di Sernia oggi pomeriggio per approvare la variazione al bilancio 2014 in seguito all'elargizione da parte della Regione Molise di 420.000 euro alla provincia Pentra per il riscaldamento nelle scuole superiori. Tale somma consente di chiudere lo sbilancio economico di 500.000 euro e da gennaio l'ente di Via Berta sarà in grado di attivare un piano di rientro per la differenza economica degli 80.000 euro restanti. Questo in sintesi il tema principale della convocazione del Consiglio ma ben altre sono le preoccupazioni per il sindaco presidente Brasiello nella giornata più fredda e caotica del 2014. Infatti le sue preoccupazioni sono indirizzate verso le criticità meteo delle ultime ore. C'è invece una situazione meteo che mi preoccupa particolarmente soprattutto nella zona dell'Alto Molise, soprattutto nella zona di Capracotta dove siamo stati costretti a chiudere la strada principale perché chiaramente oltre la neve c'è in questo momento una bufera in atto. Io mi sono sentito stamattina con la protezione civile, credo che anche la giornata di domani sarà una giornata molto critica, anzi forse ancora più critica di quella di oggi. Siamo chiaramente partiti con il piano neve, abbiamo tutti gli uomini e i mezzi sulle strade, è arrivato anche il sale che stiamo spargendo dove necessita, ma chiaramente siccome continua a nevicare le strade vengono sostanzialmente sempre ricoperte. Vediamo perché la situazione più critica in questo momento credo sia quella di Capracotta, la stiamo monitorando minuto per minuto, insomma sperando nella clemenza del tempo, ma da quello che vedo mi sembra che continui e ripeto c'è un minimo di preoccupazione anche per la giornata di domani che è un'altra giornata critica. Stiamo facendo il possibile, speriamo bene.